Torna anche quest'anno alla Fiera di Roma il Festival d'Oriente, sei giorni dedicati alla cultura, al folklore, alle tradizioni orientali per immeggersi tra danze, canti e attività gratuite. Il gioco è un fenomeno culturale che non si lega a nessun grado di civiltà o concezione di vita, ma lo si trova presente in qualsiasi società. All'interno del Festival dell'Oriente potete trovare tanti giochi e spettacoli adatti a più piccoli, per farli divertire, giocare e fare nuove esperienze. Un viaggio nell'Oriente dove, attraverso laboratori, racconti e dimostrazioni, i bambini possono scoprire e conoscere in quale modo giocano i piccoli abitanti di questi paesi. Potrei visitare un tempio buddista e fare un viaggio negli usi e costumi religiosi dello Sri Lanka attraverso la fedele riproduzione di un autentico tempio, nel quale i monaci cingalesi saranno a disposizione del pubblico per condividere con la loro propria conoscenza e saggezza nonché intensi momenti di preghiera e benedizione. Numerosi concerti presentati sul grande palco del Festival d'Oriente, al limite del normale, diversi generi, dal folk, al pop, al medievale, al rock, al bavarese, al tirolese, dalla musica leggera al jazz, con numerosi gruppi provenienti da tutte le parti del mondo. Nei vari padiglioni del Festival d'Oriente saranno presentati in contemporanea diversi spettacoli e danze, come la danza del ventre, la danza del cinema bollywoodiano, danza femminile e maschile tailandese, danza e tango orientale, danza country, dove il pubblico potrà divertirsi in lezioni gratuite. Dall'Oriente ai Gringos potrete assistere a una sparatoria dal vivo, assistere a un rodeo, assaggiare un hamburger e visitare il villaggio indiano. Molteplici corsi e attività gratuite, conferenze e workshop, dove è stato presentato buon compleanno Caira, con la proiezione del cortometraggio tratto dall'omonimo fumetto di Manuel del Sompo, che ha attirato pubblico e addetti ai lavori con grandissimo successo. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.